Si archivia l'edizione 2017 del Gran Galà del Calcio dilettanti a retino con numeri record non solo in termini di spettatori, oltre 300 in totale, ma anche per la partecipazione e il coinvolgimento dei premiati. Dopo le premiazioni delle migliori formazioni giovanili a retine è stato il turno dei dilettanti, protagonisti, calciatori, dirigenti, arbitri, ma anche tifosi. Dalla terza categoria con i campionati della Loresa Arrasina è tornato in prima categoria, dal Tegoleto è tornato alla vittoria di un campionato dopo 36 anni allo Spogliano che scrive un pezzo di storia salendo in promozione fino all'Aquila Montevarchi che torna in Serie D. C'è stato ovviamente spazio anche per i migliori marcatori con i premi che sono andati a Francesco Giustelli, del Badia Roti, Alene Erpici, del Badia Ignano, Giacomo Bonci del Tegoleto e poi la Scarpa d'Oro, novità di questa edizione, ai migliori marcatori della provincia. Il premio per la categoria maschile è andato a Giuseppe De Luca Del Poppi che ha vinto grazie a ben 28 gol. I Zottanocchi dell'Arezzo Calcio Femminile ha invece ricevuto il premio in qualità di miglior marcatore nel panorama del calcio femminile, premiati anche i migliori arbitri regionali. Erminio Cerbasi della sezione Aia di Arezzo e Simone Moretti della sezione Valdarno. Dulcis in fundo la consegna del pallone d'oro, il premio al miglior giocatore della stagione 2016-2017 scelto dai tifosi, allenatori e giornalisti si è rivelato un vero successo. Ben 52.000 persone sono state coinvolte nella votazione.